Siamo con Nikolai Borisov, professore dell'Università di San Pietroburgo, che ci presenta il suo progetto. E ora ci sono interessanti in quanto riguarda la nostra attività nella cultura e l'arte. E' da questo motivo abbiamo collaborato con l'Università di Florence, e abbiamo partito in una conferenza in Florence, perché qui c'è una buona esperienza in questa area, e abbiamo alcune idee di progetti jointi, e soprattutto ci sono interessanti in una nuova tecnologia, Multimedia 360 e l'applicazione di questa tecnologia per i cinema, per i theatrii, per i virtuali excursioni, e così via, e abbiamo discutito il progetto con l'Università di Florence.